Il Covid ha tentato di fermare gli artisti, ma non ci è riuscito. Noi abbiamo continuato ad esserci, inventando luoghi alternativi. Ma adesso basta con i balconi. Dobbiamo ricominciare a produrre. Dobbiamo tornare a incontrare il pubblico. Ricominciamo da dove abbiamo lasciato. Sono cambiate solo le cosiddette norme di sicurezza. Ligianizzarsi le mani, misurarsi la febbre, mettere le mascherine, un posto sì e due no, il vostro spettacolo, la vostra musica, le vostre prove, i vostri laboratori, la presentazione di un vostro libro o la lettura delle vostre poesie o la mostra dei vostri quadri o delle vostre foto. Mettiamo a disposizione il nostro spazio in affitto al centro di Roma, a due passi da Piazza Davona. Ricominciare! Simplify!